Nella settimana santa che culmina nella Pasqua di Resurrezione, il dramma della passione e morte di Gesù rappresenta il momento della riflessione e del raccoglimento. In diversi comuni, associazioni e parrocchie fanno rivivere quel momento storico con la Via Crucis vivente, riportando il pubblico indietro nel tempo fino a fargli rivivere emozioni e sentimenti che accompagnarono Gesù verso la crocifissione. La Sacra Rappresentazione a Sala Consiline e Fibonati si terrà domenica 14 aprile. Nella cittadina salese si snoderà tra le vie del paese lungo le quali verranno rievocate le 14 stazioni che condussero Gesù all'estremo sacrificio. Saranno oltre 40 i figuranti che indosseranno costumi d'epoca. La rappresentazione organizzata per il ventinovesimo anno consecutivo dall'Associazione i Ragazzi di San Rocco partirà alle 19.30 da Piazza Umberto I e raggiungerà l'Arena Cappuccini. In caso di pioggia sarà messa in scena nella chiesa di Sant'Anna. A Vibonati la Via Crucis, giunta alla decima edizione, è stata curata dal gruppo teatrale Vibonatesi e coadiuvata dalla locale parrocchia. La rievocazione storica della Passione di Cristo inizierà alle 19 dalla chiesa di San Francesco di Paola, dove gli abili interpreti rappresenteranno l'ultima cena. Poi, snodandosi tra vicoli e slarghi, il corteo di figuranti raggiungerà il suggestivo scenario dell'esterno del santuario di Sant'Antonio Abate. Qui la tragedia avrà il suo epilogo con l'emozionante crocifissione del Cristo accanto ai due ladroni ed infine la solenne deposizione del Redentore. A dirigere la rappresentazione durante le prove e domenica 14 aprile davanti al pubblico sarai la regista Franco Turimieri. Gli oltre 60 figuranti indosseranno costumi d'epoca realizzati a mano gratuitamente da un gruppo di persone del posto che in questo modo hanno voluto contribuire alla buona riuscita della via Crucis Vibonatese.